Casa musicale Cassano, dal 1958. Passione e professionalità al servizio della musica. Casa musicale Cassano, un megastore di 250 metri quadri, che si occupa di strumenti musicali e di accessori a 360 gradi. È rivenditore dei migliori marchi, tra cui Yamaha, Roland, Korg, Fender, Selmer, Buck e tanti altri. Per il suo grande spazio espositivo, offre sempre un buon assortimento di prodotti musicali, dai più classici ai più ricercati. Tra cui strumenti a fiato, chitarre, pianoforti, tastiere, strumenti ad arco ed una vasta gamma di percussioni, batterie e amplificazioni. Da Cassano inoltre puoi trovare cavetteria, spinotteria, microfoni e radiomicrofoni professionali e parti di ricambio per i tuoi strumenti. Casa musicale Cassano rappresenta uno tra i più completi negozi musicali della provincia di Taranto e del sud Italia. Punto di riferimento per musicisti esperti e sapiente guida per appassionati alle prime aree. Casa musicale Cassano ti dà la possibilità di acquistare i tuoi strumenti con finanziamenti personalizzati, studiati insieme a te per ogni esigenza. Servizio di assistenza pre e post vendita. Casa musicale Cassano è agginosa in Viale Martiri d'Ungheria 160. Cassano, tutta un'altra musica. Grazie a tutti.